La finanza è per tutti. Benvenuti amiche e amici di Rossini TV al quinto appuntamento con le nostre pillole organizzate dalla nostra emittente insieme a Manca Uidi Bacca. Questa sera abbiamo ospite un giovanissimo consulente finanziario che si chiama Francesco Pesaro. Buonasera Antonio, buonasera. Buonasera Francesco, il titolo della tua pillola è esattamente risparmiare con metodo e libertà, due parole bellissime che adesso ci declinerai perché in realtà si parte dal concetto ma effettivamente quanto è importante quantificare il nostro risparmio? È fondamentale che sia in termini mensili, annuali, è fondamentale perché ci consente di costruire una strategia che poi possa raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi di vita, ad esempio l'acquisto della prima casa, l'iscrizione all'università per i figli oppure un generico obiettivo di ricchezza che possa far fronte a delle spese future. Per fare ciò il nostro ruolo come consulenti finanziari è quello di dare un aiuto concreto al cliente nell'individuazione e nell'analisi di un conto economico che possa poi permettere di individuare una quota sostenibile di risparmio. Francesco, quindi una volta determinata questa quota meglio lasciarla sul conto corrente o investirla? La domanda ha un altro aspetto, si può leggere in un altro modo. È possibile dare valore a questo risparmio? Assolutamente sì, è possibile dare valore al risparmio e c'è uno strumento che per definizione va a potenziare, a rendere efficace il più possibile il risparmio accumulato. Questo strumento si chiama PAC ed è l'acronimo di piano di accumulo di capitale. È una forma di investimento periodico, ad esempio con cadenza mensile piuttosto che trimestrale e automatizzato tramite addebito diretto in conto corrente, grazie al quale è possibile andare ad acquistare quote di strumenti che investono nei mercati finanziari. Il PAC nasce a metà degli anni 50 negli Stati Uniti d'America ed è una forma diciamo tradizionale di ingresso nei mercati finanziari, proprio per questo è utilizzato sia da giovani risparmiatori che si approcciano per la prima volta al mondo degli investimenti ma anche da investitori molto più esperti. Mi sembra molto interessante questo strumento però mi dai un esempio concreto per capirlo meglio? Certo, partiamo con l'esempio di Matteo che è un esempio concreto di un mio cliente. Matteo è un lavoratore in un'azienda manifatturiera, ha 30 anni e percepisce uno stipendio mensile di 1800 euro. Grazie all'analisi del proprio conto economico siamo andati ad individuare una quota di risparmio sostenibile per lui pari a 300 euro al mese e abbiamo avviato un PAC su un fondo azionario globale. In questo modo Matteo raggiunge il duplice obiettivo, quello di andare a risparmiare una quota mensilmente che altrimenti avrebbe potuto spendere e al tempo stesso dare valore a questo risparmio grazie all'investimento automatico. Numeri alla mano, vediamo ora quali sono poi i risultati di questa scelta di Matteo. Ipotizzando un tasso di rendimento medio anno del 5%, che è un'ipotesi anche prudenziale considerati i rendimenti storici del comparto selezionato, questi sarebbero i risultati della scelta di Matteo. Come è evidenziato ed è intuibile anche dalla tabella, l'orizzonte temporale rappresenta uno dei fattori cruciali per il piano di accumulo. Il tempo è oro, maggiore è l'orizzonte temporale a disposizione dell'investitore, maggiore sarà il risparmio accumulato nel tempo e maggiore sarà poi il rendimento offerto dal mercato. Questo sostanzialmente è possibile grazie a ciò che Albert Einstein definiva come l'ottava meraviglia al mondo, vale a dire l'interesse composto. L'interesse composto altro non è che una formula finanziaria che così come un lievito fa a crescere in misura esponenziale il nostro risparmio se questo viene mantenuto nel corso del tempo. Si parte dal capitale, il capitale nel corso del tempo produrrà dei rendimenti e a loro volta questi rendimenti produrranno altri rendimenti. Questo è il meccanismo dell'interesse composto che consente nel corso del tempo di creare dei capitali importanti e diciamo ed è anche questa la motivazione per cui è importante ad investire sin da giovani. E quindi tornando indietro al titolo della nostra puntata, risparmiare con metodo e libertà, possiamo riassumere quali sono i principali vantaggi del metodo PAC per dare proprio un'indicazione precisa ai nostri ascoltatori. Certamente, i vantaggi sono molteplici. Il primo sicuramente è quello che consente di creare nel corso del tempo un capitale importante partendo anche da piccole somme di denaro. Un secondo aspetto caratteristico del piano di accumulo di capitale è quello che consente di fatto di risparmiare all'investitore grazie al suo meccanismo di addebito diretto in conto corrente. Un altro elemento fondamentale è quello che consente di ridurre il rischio di entrare in condizioni di mercato sfavorevoli e al tempo stesso riduce l'emotività del cliente che poi è il vero grande nemico dell'investitore stesso. Non da ultimo è uno strumento flessibile che offre una grande libertà perché durata e importo del piano sono a discrezione dell'investitore sulla base delle proprie esigenze e dei propri obiettivi di vita. La rata in particolar modo può essere sospesa per far fronte a degli imprevisti o modificata laddove si presentassero delle opportunità sui mercati finanziari. Proprio per questo motivo è fondamentale il ruolo del consulente finanziario che offre un aiuto al proprio cliente e lo accompagna all'interno del suo percorso finanziario mantenendo la rotta soprattutto nelle fasi di mercato più difficili. E questa è una delle caratteristiche di Banca Uidiba con i suoi consulenti finanziari sempre attenti al cliente e come abbiamo visto questa sera con un particolare riferimento importantissimo ai giovani. Ha parlato un giovane consulente e davvero ci piace che i giovani possano percepire questo concetto che aumentando il termine temporale di un investimento aumentano anche le loro opportunità. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.